Le aveva comprato due lecca-lecca prima di colpirla a morte con due coltellate il 22 giugno del 2019 a Cremona, Giacob D'Agno, il suo papà, ora in carcere a Pavia, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. E secondo il medico legale Margherita Fornaciari, le possibilità di sopravvivere della piccola erano elevatissime, poteva essere salvata, ma i soccorsi non sono stati chiamati in tempo. Così le due ferite, inferte con un coltello da cucina, hanno causato la morte della piccola, dopo alcune ore, per dissanguamento. Tutto è avvenuto nell'appartamento di Via Massarotti, dove Livoriano 38enne, operaio alla Magic Park, si era trasferito dal primo giugno dello stesso anno, mentre l'ex compagna e la figlia erano ospiti di una casa protetta. Audrey Isabel lo aveva lasciato perché era diventato cattivo e la molla era stata un ceffone sull'orecchio che le aveva provocato la lesione del timpano. Jacob aveva confessato il delitto tempo dopo i fatti, mentre all'inizio aveva parlato di un rapinatore. In aula, poi, ha detto di aver perso la testa, di essere stato preso dalla follia, ma una follia non naturale, che derivava dalla stregoneria. Pensava che qualcuno gli avesse lanciato il malocchio. Questo momento, secondo l'uomo, sarebbe stato indotto da persone di famiglia, anche lontane, in contatto con Audrey Isabel, contro cui era diretta la sua vendetta, perché lei non voleva più tornare con lui. Domani, ultimo appuntamento in corte d'assise a Cremona, è infatti attesa la sentenza per uno dei delitti più efferati che si possano compiere, quello sulla propria figlia.